e bentornati ragazzi su venerdì 13 mamma mia io sono slimer e qui stiamo giocando di nuovo a venerdì 13 ragazzi mio dio speriamo che non sono io jason però tentatemi non capito niente però poi corri corri come se non ci fosse un domani si mette il ferro ok vediamo se troviamo qualcosa abbiamo preso il tubo che possiamo tristurare bellissimo ora già ragazzi cos'è come on viense che tu li possiamo scappar dai c'è il ruolo ne devi prenderlo dove c'è va No, chiudi Qua si apre Chiudi, chiudi Chiudi, signorina Cos'è? Apri Perché non posso prendere? Che è? Corri No, mi ha vinto, esci, esci No E dai Da dove è entrato? Ma che Ma che sfiga Con questo gioco Una sfiga Con questo gioco Incredibile Devo fare sempre la spettatura La spettatura Devo fare Sempre Attenzione che cagli Eh vabbè Commentiamo Questo video Che è stata questa stronza Portarlo dentro Mecmi Chi è che mette una cassicchina Fu da grande Chi è la porta? Ma che è stata tutta aperta Eh io c'avevo la pistola Mennaccia È forse entrato Ah Ehi Eh pesante Perché sono morta Subito Sono una pippa Sto giu Dai radio Da radio Cesa Voglio rimboccare questo A richiamarlo proprio C'è intelligente Perché devo dire Il canzone degli 80 Oh mamma mia Bellissimo Eh fatti un balletto pure Fai male in qua Eh 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 Te l'ho detto Vuoi fare il parkour Ecco Eh Che milla Buonanotte Good night E sei morta Ehi Sione Che è Biberhopers Biberò Ah no La bernice È vero Sembrava di qua Mi devo un altro Sfortunato E speci quella radio Cosa Come c'è tu Cosa Com'è morta Quello Questo dicembre Non lo capirò mai Eh Ha ucciso tutti Rarissimo Comunque Non lo capirò mai Ma dov'è Questa è inguitante Sta cosa Butta la cosa Questa partita è andata Normale Malissima corso Questa partita è una Questa partita è attra Questa partita è una